gnammi adoro le fragole ti sfido a mangiare le fragole della maestra io non esiste sono rimasti solo i gambi le mie fragole signorina macy non è quello che pensa tommy porta qui il tuo test ecco la vendetta per le mie fragole ma signorina macy fregato tommy guarda f di fragola seduti ho un lavoro extra per voi una sfida alla fragola ecco il compito rimettete tutti i gambi sulle fragole ecco davvero guarda è stato facile è caduto ci vorrà un po di tempo ben vista ladri di fragole come puoi fare così tanti errori ehi foxy guarda miss macy sta per avere un crollo mentale dobbiamo farle uno speciale antistress potenza del pop it aiutaci ha funzionato è una borsetta antistress fai dei fori sul bordo di un pop it a forma di fragola cuci una lunga cerniera rossa a spirale unisci due pop it per fare i lati della borsa crea dei manici con degli stick di colla caldo verdi e incollali miss macy abbiamo un sedativo alla fragola che bella fragola rilassante ed è anche una borsetta può metterci dentro ciò che vuole grazie fantastico ed ecco una fragola per voi questa borsa a fragola è fantastica che voglia di dolcetti ragazzi ecco il vostro nuovo compito dolcetti alla fragola mettetevi al lavoro prima e tu continua a camminare bene la chimica mi aiuterà mescoliamo le sostanze chimiche altri reagenti estratto di felicità e otteniamo oh sì le fragole blu immergi una fragola fredda nella glassa fusa di cioccolato blu aspetta che si indurisca oh caspita ed ecco le mie pazienti bisturi un altro e ora della dolce chirurgia che c'è qui inietta tre cubetti di cioccolato sciogli il cioccolato fondente prendi una seringa senza ago e riempila fuori una fragola e riempila di cioccolato in diversi punti oh cavolo ho paura degli aghi le fragole del miracolo buon appetito miss macy per me le provate prima a voi ok è davvero deliziosa fragole al cioccolato la cosa migliore in assoluto ok è davvero buona miss macy si è stancata molto al lavoro guarda miss macy ha bisogno di un cuscino hai qualche idea la mia invenzione sarà un cuscino alla fragola al naturale non essere parco con le fragole ora lo vedrai miss macy prenda questo cuscino oh wow grazie tommy visto che è una grande idea perché c'è del sangue qui ecco un morbido cuscino fragole senza avere fragole disegna una fragola su un pezzo di tessuto laccato cuci i pezzi con la macchina da cucire rivoltalo e riempilo di imbottitura chiudi il buco incolla degli strass a forma di goccia falle sembrare dei semi aggiungi delle foglie dorate cosa? anche la mia idea era ottima oh che bel cuscino questa fragola è così morbida così tanto materiale e nessun posto in cui metterlo so come aiutare miss macy un organizzatore di fragole è un'invenzione geniale miss macy guardi la mia idea sei serio? non le piace? Tommy ci sono cose migliori un marsupio alla fragola per esempio disegna diverse fragole su un marsupio bianco usando una matita colora con vernice per tessuti aggiungi i contorni neri e i semi miss macy questo è per lei per me? che dolce grazie entrerà tutto qui dentro chi sta masticando laggiù? sono confusa wow foxy sei cambiata chi sta facendo quei terribili rumori? foxy? ora basta ho bisogno degli occhiali a raggi x con effetto fragola taglia parti di fragola dalla gomma piuma glitterata fai dei fori rotondi nel pezzo centrale incolla un frutto e un gambo attacca un filtro fotografico rosso al foro incolla le lenti della fragola su una vecchia montatura di occhiali bene 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 è foxy che nasconde le fragole sotto la maglietta capisco foxy attenta dammi la tua scorta subito nessuno può ingannare miss macy il vostro nuovo compito è quello di fare un look alla fragola iniziate ho un sacco di idee adoro il trucco luminoso non ho più tempo ho bisogno di una soluzione semplice foxy ha fatto gli smokey eyes alla fragola fatto e puoi vedere che Tommy si è tuffato nelle fragole accidenti scrivete il nuovo argomento è... guarda la luce della finestra le dà fastidio lo so oscurerò la finestra con le fragole no! spegnete quella luce so cosa serve una maschera per dormire alla fragola ordinata taglia dei pezzi di feltro incolla un nastro elastico verde alla maschera per dormire attaccaci sopra il secondo strato della maschera aggiungi i gambi della fragola dipingi i semi gialli della fragola mi smessi? questa è per lei dolci sogni di fragola grazie cosa? dove prende tutto questo? oh che carina ora non infastiditemi una doccia di fragole è così dolce sono coperta di fragole aiuto! è solo stato un incubo alla fragola Tommy guarda c'è un ananas no è di Miss Maisie sei proprio un guastafesto Foxy hai vinto ehi dov'è la parte migliore? è una trappola oh ragazzi ci siete cascati di nuovo? era solo un portamatite sapete in cosa siete coinvolti ora? la sfida dell'ananas ti è piaciuta la nostra sfida? scrivi qui sotto quali idee ti sono piaciute di più quelle di Tommy o di Foxy? e metti un like al video iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom 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 Troom